Ciao ragazzi, oggi voglio parlare di Lab 301, un mulino a pietra per la produzione di farina ottenuti con cereali del territorio della Repubblica San Marino. Adesso vi faccio vedere che cosa mi hanno inviato. Allora, iniziamo con questo tipo di farina, grano tenero di varietà gentil rosso. Questo grano antico deve il suo nome alla sua sfumatura rossiccia, che le sue spighe assumono quando sono mature, sono ricche di proteine ma a basso contenuto di glutine. Le farine di gentil rosso sono ideali per la produzione di pane, pizza e focaccia, appunto essendo di tipo 01 verranno morbidissime. Poi abbiamo questa farina, le macinate a pietra, che è una farina di farro integrale che è macinata attraverso un mulino a pietra. Poi abbiamo questa di qua, che è la farina di grano tenero biologico di tipo 01, ed è questo grano antico frassinetio, che è una varietà di grano tenero cosiddetta antica, che ha uno stelo alto e robusto, che ha un'ottima resistenza alle malattie, pertanto si presta anche all'utilizzo in agricoltura biologica e basso impatto ambientale. Dopodiché abbiamo questa farina di grano tenero biologico integrale, che è coltivato secondo i disciplinari di produzione di terra san marino, con tecniche comunque che rispettano sempre l'ambiente. Ringrazio appunto Lab 301 per queste meravigliose farine, restate in contatto che presto farò tantissime ricette. Grazie ancora. Ringrazio appunto Lab 301 per queste meravigliose farine,